buongiorno da fulltumber pesca e buon san valentino tra poco grosse sorprese sul canale oggi cominciamo con un bel regaluzzo unboxing di un action cam che aspettavo da un pezzo e vedremo dei gran bei video molto attivi poi adesso vi sto riprendendo anche con l'intelligenza artificiale infatti mi muovo e questa mi segue è ancora da questo e mi segue ancora unboxing ciao grande ragazzi ovviamente coltellusso di quelli pesanti rambo e andiamo a aprire sto scatolotto questo mi permetterà di fare delle riprese da paura prenderemo di gestire la cosa in maniera tra virgolette professionale per quello che si può la stagione lavorativa è ripartita bene perciò possiamo gestire la cosa in maniera totalmente diversa un pacco su pacco non è che mi piace anche il pacco su pacco e va bene coltello di rambo speravo che tagliasse di più ma che cavolo ci sarà qua dentro roba di pesca e no ragazzi interessante community ed ecco qua mica se sono contento questa ragazzi farà la differenza mentre pesco a breve le prove mi raccomando iscrivetevi al canale siamo su tik tok facebook youtube twitter instagram youtube abbiamo dovuto ricominciare per dei program problemi con google ha l'ho presa nera